La provincia di Isernia torna a riappropriarsi della moda e lo fa formando nuovi professionisti del settore grazie a un corso organizzato dall'Istituto Tecnico Superiore Demos Academy in collaborazione con l'ITR Hub del gruppo Valerio. La presentazione del corso Sartoria Digitale 4.0 sarà il 3 agosto alle 19.30 nello stabilimento di Pettoranello. Cibo, musica, cocktail e un DJ set a cura di Manuel Tirabasso faranno da cornice alla serata. Due anni per un totale di 1.800 ore di formazione che hanno l'obiettivo di creare nuovi profili del settore tessile in grado di lavorare con macchinari digitali all'avanguardia come quelli dotati di puntatori laser per realizzare i filetti delle tasche in pochi minuti. Il corso prenderà il via in autunno e gli interessati, senza limiti di età, possono già iscriversi. Lezioni e stage offrono un'opportunità di lavoro per i giovani sempre più proiettati nel mondo digitale. Formeremo sarti e modellisti, ha detto l'imprenditore Antonio Alessandro Valerio, titolare dell'ITR Hub, per andare incontro alle esigenze del territorio. Con il passare degli anni, chiaramente, le tecnologie sono cambiate, anche le figure sono cambiate. Abbiamo vissuto un periodo di grandi cambiamenti a livello mondiale, di questa digitalizzazione che ha interessato tutti gli aspetti produttivi e non in ultimo anche la moda e quindi oggi è doveroso adeguare le professionalità e le competenze all'utilizzo di questi strumenti digitali. I corsi dell'ITS sono corsi di alta formazione, che dovrebbero addirittura prevedere un costo. In questo caso non solo sono in forma totalmente gratuita, ma addirittura è prevista un'indennità per la frequenza del corso. L'ITR Hub diventa Accademia, ha detto poi Maria Laura Cosimi, direttrice della Demos Academy. Siamo certi di promuovere le competenze che hanno sempre caratterizzato questa azienda, riconosciuta in Italia e nel mondo. Quest'anno la moda all'interno di questa azienda e di imprenditori illuminati che sono necessari, che chiaramente comprendono che se non si passa per l'alta formazione, le figure che devono entrare a far parte dell'azienda, quali lavoratori o qualsiasi altra qualifica che loro abbiano, debbano essere formati. All'interno dell'azienda c'è un braccio della Fondazione Demos con un comodato d'uso gratuito. Noi faremo formazione anche all'interno di questo stabilimento. Grazie.